E vai, vandà! Mister Musicanti! Vita David! L'aperitivo, adesso arrivo E' già finito, scelgo il vestito Fammi uno squillo, quando ci sei Il locale è pieno e spacca anche i DJ Ma quante luci sono dei miraggi E' una serie di Netflix Il cellulare ha 103 messaggi Perché questa notte qui Facciamo vita da Zip, 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 zip Un trattamento da Zip, 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 zip Facciamo vita da Zip, 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 zip Un trattamento da Zip, 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 zip Facciamo vita da Zip, 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 zip Facciamo vita da zipp 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 Un trattamento da zipp 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 Facciamo vita da zipp 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 Facciamo un vocale, possiamo andare Ma senza invito Non è sconsendito Sono sul giornale Ci sei anche tu Con Martini in mano Ieri all'Ollivoy Ma quante luci sono dei miraggi È una serie di Netflix Il cellulare ha 103 messaggi Perché questa notte qui Facciamo vita da Vip, 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 vip Un trattamento da Zip, 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 zip Facciamo vita da Zip, 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 zip Un trattamento da Zip, 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 zip Facciamo vita da Zip, 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 zip Un trattamento da Facciamo vita da Zip, 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 zip Un trattamento da Zip, 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 zip 600.000 click Sempre nella top list, trending topic here Fashion bloggerist, e le mie storie sai Ne vedi solo live, rispondi con un like Che sono trending star, facciamo vita da Oh yes